Il Comune di Pesaro ed Amat presentano Miral Teatro d'Estate, teatro e musica al Parco Miralfiore di Pesaro. Domenica 24 luglio, il concerto dei King of Convenience. Il duo norvegese torna in Italia con un tour estivo dopo il successo delle 5 date autunnali nei teatri per la presentazione dell'album Peace or Love. Per info e per notazione biglietti, rivolgiti a... Grazie per la visione!